Il sistema della ricerca toscana mette radici in Europa con Tour4U, l'associazione presentata a Bruxelles dal presidente della regione toscana Enrico Rossi e dalla vicepresidente Monica Barni, creata per intercettare le migliori opportunità ai finanziamenti europei, incoraggiare la collaborazione tra ricercatori toscani e partner europei e promuovere collaborazioni tra università, regione e imprese. Ne fanno parte tutte e sette le università e scuole di alta formazione toscane. Penso che questo rapporto con l'Unione Europea, oltre che aumentare le disponibilità, poi anche le relazioni con altri centri di ricerca fuori dal nostro paese, servirà anche a creare una mentalità europea della ricerca, a star dentro una cultura europea della ricerca. L'Europa non è soltanto una realtà a cui ci si rivolge per bussare e avere fondi, ma è anche un modo di ragionare, lavorare, di concepire le cose con strategie che sono sicuramente all'avanguardia e che in questo modo, credo, noi dalla Toscana possiamo essere maggiormente agevolati. La posta in gioco è alta perché la Commissione Europea, a inizio maggio, ha proposto di portare i fondi per la ricerca nel settennato dopo il 2020 dagli attuali 80 miliardi a 100 miliardi di euro, a fronte tra l'altro di un generale rischio di diminuzione dei fondi comunitari a disposizione delle regioni. Verrà ammessa una persona a lavorare specificamente su questo, farà il monitoraggio ovviamente dei bandi di Horizon 2020, dei futuri bandi e poi terrà rapporti con tutti i dipartimenti, con tutti i settori dell'Unione Europea che a queste politiche sono interessate. La nuova associazione avrà la sua casa nella sede della Regione Toscana a Bruxelles. Grazie a tutti.